I principi, quindi vediamo sostanzialmente, partiamo da quest'ottica qua, cioè capiamo quali sono i diritti che entrano in gioco per tutelare le opere e vediamo la regola generale e poi pian piano ci spostiamo di là. Che cosa tutela il diritto d'autore? Un po' l'abbiamo già detto, quindi non parliamo di marchi, non parliamo di invenzioni industriali perché altrimenti saremmo nel mondo appunto dei marchi e dei brevetti, non parliamo di opere creative, cioè guardate, sono tutelate e sono protette i sensi di questa legge le opere degli ingegneri di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo, la forma d'espressione, quindi rimane largo, molto ampio questo elenco, tant'è che dopo c'è un articolo 2 che lo dettaglia meglio. Aggiunge poi un altro paragrafo, sono altresì protetti i programmi per il laboratore nonché le banche di dati. Perché l'ha aggiunto dopo? Perché questa è una legge, vedete, questa è la nostra legge sul diritto d'autore che è del 1941, cioè quello lì è l'anno, cioè il 1941 è l'anno, il primo è il numero di protocollo e il secondo è l'anno. E quindi ovviamente nel 1941 il legislatore non si poteva immaginare il software, le banche di dati e quindi è un tipo di creazione che è arrivata con l'evoluzione tecnologica. E quindi questo paragrafo è stato aggiunto dopo. Faccio notare una cosa che non so chi di voi ha un po' di velleità di sviluppo software che dice che i software, i programmi per il laboratore sono come opere letterarie. Nessuno di loro che tu sappia? Perché... Ma anche chi non ha fatto informatica, insomma, in un corso come questo, perché equipare il software all'opera letteraria? Cioè con tutte quelle a cui poteva equipararlo? Allora, la legge dice che sono protetti i programmi per il laboratore, cioè il codice sordente di potenza, come un'opera letteraria e non come un'opera d'arte, una roba... Vi ha già aiutato, eh? Vi ha già aiutato. Scusa, lei sta dicendo... Ho sentito tutto... Lei dice, propone un servizio... Spiega meglio? Sì, quello abbiamo capito. Ma perché è proprio come opera letteraria? Cioè perché l'ha equiparato all'opera letteraria e non all'architettura, ad esempio? Sì, vabbè. Le ha aiutate. Con la parolina magica, codice sorgente, le ha aiutate. Perché effettivamente il codice sorgente è testo. Il codice sorgente... Cioè tu il software lo sviluppi in forma testuale. Poi adesso in realtà non è più neanche così vero, nel senso che adesso ci sono software che ti fanno sviluppare ad oggetti... Io ci suggerisco un'altra cosa. Prego. Io lo stesso programma lo posso scrivere in mille mondi. Certo. E la mia creatività mi porta a scegliere di scrivere in un certo modo. E questo è quello di terminare che sia più performante di Alta e meno performante. Sì, sì. Allora, lo stesso software tu lo puoi sviluppare con linguaggi di programmazione diversi, già. Quindi già partiamo dalla differenza più macroscopica che la riconosce chiunque, perché anche uno che non è informatico vede che è scritto proprio con dei linguaggi diversi. Ma anche con sintassi diversi, tu puoi usare comunque Python, ma due sviluppatori arrivano allo stesso risultato in modi diversi. Se poi c'è quello che l'ha fatto in modo figo, perché è uno sgamato e quindi te lo fa con un giro particolare, il software funziona bene, è quello che arriva allo stesso risultato, ma con un modo macchinoso, farraginoso, che poi crea bug e via dicendo. No. Io non ho queste competenze, ma chi ha competenze di sviluppo software sa dirti se un software è scritto meglio di un altro. Al pari di come una professoressa d'italiano ti corregge il tema, adesso scusate, sto forzando però, la professoressa d'italiano dice no, ma questa cosa qua dovevi dirla qua, non dovevi dirla qua. Ok? Perché ci sono delle regole di sintassi, di un linguaggio che è artificiale però, la lingua italiana è un linguaggio naturale, che l'uomo ha creato nella storia partendo dal latino. I linguaggi informatici sono artificiali, c'è qualcuno che si è messo a tavolino e ha stabilito che certe cose si dicono così e si dicono così. Ok? Ecco perché il programma per il laboratorio è equiparato all'opera letteraria. Perché quello che si va a vedere, come già è stato detto, è proprio come è stato scritto in formato sorgente. E non tanto le funzionalità. Tant'è che la stessa cosa tu la puoi fare, cioè quante applicazioni ci sono per fare, per schiarire le foto e ritagliare le foto? 6.000, cioè già nasce un cellulare che ne ha già su due, già di suo. Più te ne puoi scaricare altre. Fanno tutte la stessa cosa. Ritaglia, aumenta la luminosità, aumenta il contrasto. Perché? Perché le funzioni sono quelle, non è che ci sia tanto. È il modo in cui lo fanno che è diverso. È il codice sorgente che ci sta dietro. Ok? Come vi dicevo, l'articolo 2 non fa altro che dettagliare meglio l'elenco che ci è stato fatto in articolo 1. Adesso non lo leggiamo tutto, però vedete quello che dicevo. Le opere letterarie non si intende solamente il romanzo o la raccolta di poesie, ma anche quelle drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose. Tanto se forma scritta quanto se forma orale. Queste slide sono tutelate come opera letteraria. Ma anche come forma orale, cioè al di là delle slide, questa mia lezione che viene registrata, poi può essere sbobinata, ipotizziamo il professor Mangiatore e dopo dice ah, io voglio fare una dispensa per il mio corso, metto lì un softwareino che sbobina tutta la lezione di Aliprandi. Eh, mi deve chiedere il permesso per questa roba qua. Perché anche questa è opera letteraria, anche se è resa in forma orale. E i diritti su questa roba qua ce li ho io. Ok? Beh, le opere coreografiche, pantomimiche, musicali, scusate, quelle figurative, cioè l'arte figurativa in senso lato, quindi scultura, pittura, arte del disegno, incisione, arti figurativi e similari, compresa la scenografia, compresa la grafica multimediale, non lo dice, ma comprende anche quello. L'architettura, l'arte cinematografica, la fotografia, i programmi per l'elaboratore, ecco qua lo dice, i programmi per l'elaboratore in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi la tutela della presente legge, le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma. Quindi non vai a tutelare l'idea, perché se no noi avremo una sola applicazione per fare le foto, per modificare le foto, perché l'idea l'ha avuta già lei. Le altre che fanno esattamente la stessa cosa andrebbero a violare il copyright, invece il copyright per fortuna non funziona così. Vai a tutelare la forma espressiva dell'opera, non l'idea che ci sta dietro. Le banche di dati, anche lì è un tema molto interessante, non ce la facciamo a farlo, e infine le opere del design industriale, che è un capitolo anche lì a sé. E quindi arriviamo alla domanda thriller, quella per cui, prego, c'è la domanda... L'hanno già vista? Perfetto, basta. Allora, di chiuderle. No, ma c'è la domanda là, scusa. E' molto semplice. Il brevetto si occupa di invenzioni industriali, non di letteratura. Copriate l'hai visto, no? Sono quelle dieci cose lì. E l'idea, allora, l'idea tutelata dal brevetto è un'idea che deve avere un'applicazione industriale, quindi non vai a tutelare l'idea astratta, ma vai a tutelare l'invenzione industriale. Le scarpe geox che hanno fatto la membrana per cui il piede respira ma non entra l'acqua, no? Adesso un esempio. Quella è... Non potrebbe essere tutelata con diritto d'autore, perché non è un'opera creativa. È una soluzione tecnica, ecco. Forse con questa parola qua ti aiuto. Cioè, la soluzione tecnica è un problema che non c'entra molto col diritto d'autore. Il diritto d'autore si occupa di letteratura, artifigurativa, grafica, ok? Eh, no, ecco, bravo. Allora, nel campo informatico c'è ancora dibattito. Nel senso che il software, in teoria, in Europa dovrebbe essere tutelato con diritto d'autore, tant'è che l'abbiamo visto al numero 8, prima, ma puoi... quando il software viene considerato computer di implemented invention, questa è la parola tecnica, cioè, invenzione che è implementata attraverso il computer, allora diventa invenzione industriale, quindi, diciamo, l'algoritmo, il procedimento matematico, diciamo, che sta dietro il codice sorgente, diventa invenzione, ma è pericolosissima questa cosa, c'è dibattito, perché? Perché va a finire che brevettiamo delle formule matematiche, che è quello che però sta succedendo da una ventina d'anni. Cioè, il brevetto di per sé dovrebbe tutelare delle soluzioni tecniche, se io brevetto delle formule matematiche, sto brevettando la matematica, che non è, che è proprio quanto di più lontano da una soluzione tecnica, perché è astratta in sé, quindi è una roba che si sta abitando su se stessa, ma visto che ci sono degli interessi economici mostruosi dietro, ovviamente, l'industria del software, adesso stanno spingendo per avere il brevetto, perché col brevetto si è molto più potente, cioè il brevetto è un tipo di tutela molto più aggressiva, molto più... perché va sull'idea, vuol dire che tu puoi evitare che tutti gli altri sviluppino una cosa che gli assomiglia, e quindi se tu tuteli l'idea, il risultato è che il primo che arriva a fare l'applicazione che schiarisce le foto, può dire a tutti gli altri di non farla, perché sennò violerebbero il brevetto, ed è secondo me eccessivo, ed è oltre a quello che è lo scopo del brevetto, però se apriamo questo capitolo, diventa una lezione di dottorato di ricerca di quattro ore, perché no, è un tema fighissimo, però direi che... Sì, no, sì, se vuoi poi te le passo, cioè no, c'è anche una mia lezione su sta cosa, però ecco, è un po' avanzata. Proviamo a rispondere a questa domanda invece, quindi uno che ha scritto una di quelle dieci cose, poesia, quindi testo letterario, brano musicale, opera delle architetture, come diventa titolare del diritto? Cosa deve fare? Società apposite che fanno... Ok, di solito mi danno due o tre risposte a questa domanda. Scegliere? Ma di chi? Per l'opera o per l'autore? Non ho capito. Cioè scusa, io sono Simone Riprandi, devo scegliere un nome per mettere sui miei libri. Cioè io scrivo un libro, devo pubblicarlo. In che senso devo scegliere un nome? Ok. Altre? Lei dice di essere automatico? Tu hai un'altra ipotesi oltre a sé. Ecco, allora sono arrivate le tre risposte che solitamente... C'è un contratto con l'editore, cioè vuol dire che nasce il diritto nel momento in cui faccio il contratto con l'editore. Però questa cosa qui ogni volta io da giurista mi avvito. Cioè perché io per firmare un contratto devo avere il diritto. Come fa a nascere lì il diritto? Cioè io col contratto di edizione cedo il diritto all'editore. Come fa a nascere lì il diritto? E allora non è il contratto. Il contratto quindi viene dopo. Cioè allora io vado dall'editore e dico ho scritto un libro. Me lo prendi? Va bene, facciamo un contratto di edizione. E ma chi sarebbe questo chi di dovere? Eh no, la domanda è proprio quella. Lui si è approvato dicendo la SIAE. La SIAE per quanto riguarda la musica? Beh lo fa anche per i libri. Anche per il software. Società italiana, autore ed editori, generico. Qualsiasi autore ed editore si può iscrivere. Poi c'è lei che invece dice non devo fare nulla perché è automatico. Cioè sono due cose molto diverse quelle che avete. Tre cose molto diverse quelle che avete. Allora quella del contratto è un, come dire, giuridicamente è un nonsense perché io il contratto lo firmo solo se il diritto ce l'ho. Le altre due sono interessanti e sono speculari perché uno dice devo andare da un soggetto che mi dà questa sorta di benedizione solenne. Mi dice sì, tu sei l'autore di quest'opera. E' uno che dice no, c'è da fare una mazza. E' automatico. Guarda che sono cose molto diverse. Scrivi un saggio. Sostiene che l'ha fatta lui. Me lo copia. Va bene. Ok. Ma questo qualcosa viene comunque da un soggetto esterno che è la SIAE. O simile, diciamo. Altre ipotesi. Adesso abbiamo ancora, si salvano queste due qua. Abbiamo scuso che era il contratto perché vi ho spiegato perché. Basta? Vabbè, una risposta esatta c'era ed era non devi fare nulla. Cioè, la domanda mia era come si acquisisse il diritto. Voi avete, loro due, hanno risposto a un'altra domanda. Cioè, avete risposto a come dimostro la paternità dell'opera. Sembra banale, ma sono due concetti diversi. Cioè, il diritto si acquisisce con la semplice creazione dell'opera. nasce nel momento in cui creo l'opera. In realtà ve l'avevo già un po' detto. Cioè, io, mentre sto parlando, nasce il mio diritto su questa lezione. Perché sto parlando a braccio, seguo un canovaccio, però, su queste mie parole che se lui le sbobina, io ho già il diritto d'autore. Non è che finita qua c'è la gara al primo che arriva la SIAE. O no? E no, come avete raccontato, sembrerebbe che tra me e lui, no, se diciamo, aspetta, aspetta, che li prendi, lo distraggo, gli offro il caffè, nel frattempo mando la SIAEE. Non funziona così. Io ho già il diritto perché è un diritto d'autore. Nasce, lo diceva in realtà qua, opera dell'ingegno di carattere creativo. Vuol dire che il fatto che sia di carattere creativo già che fa nascere il diritto. Cioè, il fatto che ci sia un minimo di creatività già fa nascere in capo all'autore un diritto. Quello a cui avete risposto voi è questo. Come si dimostra la paternità delle opere? E quello lì allora è valido tutto il discorso che facevate voi. Cioè, io faccio una cosa, che non risulta da nessuna parte che è mia e allora qualcuno prima o poi mi può fottere. Detto anche lì con una parola metaforica. Però, quello che è sufficiente diciamo per la giurisprudenza, se vedete qua vi ho messo un articolo della legge. Qua non vi metto un articolo della legge perché non c'è un articolo. Cioè, la legge non dice cosa devi fare. C'è un principio che si deduce innanzitutto dal buon senso e poi anche proprio confermato dalla giurisprudenza cioè dalle sentenze dei giudici che hanno sempre detto che il primo che ha cioè colui che ha una prova anteriore degli altri viene considerato l'autore. E quindi l'unica cosa che a me serve è una prova di anteriorità. La CIA te la dà ma non è perché te la dà non è che è un crisma che viene dall'alto semplicemente loro prendono in deposito l'opera e ti danno una ricevuta. Cioè, ti danno una prova di data certa. E questa cosa qui al giorno d'oggi in effetti non richiede più che ci sia un ente specifico che lo fa ma ci sono tanti modi per avere data certa su un documento. Si può fare una firma digitale, si può fare una PEC, si può fare un deposito ad esempio su una di queste piattaforme che sono dei siti che ti danno un'adattazione certa di un documento. Si possono caricare in blockchain e ci sono anche altri modi. C'è una mano alzata? Sì? No, brevetti è una cosa molto diversa ma oggi non ne parliamo. Quindi capisco l'interesse però se stiamo parlando dei brevetti non ce la facciamo. Il brevetto è contrario, cioè nasce il diritto nel momento in cui vado a depositare l'invenzione, se no non ce l'ho. Tant'è che ci sono storie di gente no, andate a leggere tra Meucci e Bell chi è che ha vinto ma io ho prognato il giorno prima però lui era in America c'era un tempo di attesa per il deposito cioè andate a leggere la storia ma lì stiamo parlando di un'altra cosa qua stiamo parlando di diritto d'autore. Qua l'unica cosa che ha richiesto è che l'autore per essere al riparo da situazioni tipo quelle che stavano raccontando loro cioè di persone che fanno i furbi sostanzialmente che si spacciano per autore di robe che non hanno fatto ci sia una data certa e ci sono tanti modi adesso col digitale non c'è bisogno che vado alla SIAE con una volta si faceva così andavi alla SIAE con lo spartito o con il manoscritto la SIAE lo prendeva in deposito ti metteva un timbro con data certa però se fate la tesi di laurea ad esempio la tesi di laurea cosa fai? la devi caricare adesso vabbè io cartacea ancora l'ho fatta quando la facevi cartacea portavi la versione stampata quella brutta che costava meno la portavi in segreteria studenti facevi la coda una mattina la portavi al tizio in segreteria studenti il quale ti faceva una sorta di timbro sul libretto sul libretto cartacea e tu avevi una prova che in data 12 dicembre 2003 3 12 avevi depositato la tesi di laurea e quella non è una data certa cacchio più data certa di così c'è un documento che viene protocollato da un funzionario pubblico di un'università da quella data lì in poi è difficile sostenere che quella tesi l'ha scritta qualcun altro tu sei abbastanza in una botta di ferro dal punto di vista della prova ma c'era una mano alzata qua dietro ah prego sì 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 è questa roba qua brava la parola non volevo usarla però metadato cioè alla fine la firma digitale cosa fa infila dei metadati con la data e allora allora noi siamo in Italia siamo un paese di furbi e quindi da noi c'è tutta una giurisprudenza che serve per rendere solida una prova il concetto di data certa adesso non ve lo posso spiegare però è legato ad una serie di garanzie per cui devi essere sicuro che quella data non sia stata manomessa alcuni dicono ebbè ma anche se carichi un file su youtube c'è una data la mette a youtube non può essere manomessa è un soggetto privato potrebbe avere degli interessi anche lui a cambiare le date dei file potrebbe avere avuto un problema sul database e aver spostato delle date di file se tu lo fai con un sistema di questi soprattutto questi che passano da un server pubblico cioè da un'autorità pubblica che mette la data lì hai voglia di dire che è falso è come un pubblico ufficiale che mette un timbro cioè che mette no è come il funzionario della bicocca che mette la firma e il timbro sul libretto cioè ha una fede pubblica si dice può essere anche anche il funzionario della bicocca può essere di malafede perché gli hai mollato 10.000 euro sotto il banco però sono situazioni estreme patologiche cioè devi provarlo che sia successo e qua non sono dei funzionari qua sono dei meccanismi automatici no e per essere sicuro sì poi uno cioè io ho fatto dei processi basati su delle email delle email semplici non delle PEC ho fatto dei processi basati su un messaggio Whatsapp cioè il giudice ha detto ok facciamo un'aperizia sul cellulare vediamo se il messaggio è stato manomesso quindi si arriva anche a quello a volte la puoi provare anche per testimoni cioè nell'ipotesi che il professor Mangiatore riesca di qua e vada a depositare alla SIA il testo della mia lezione stasera io potrei chiamare voi a testimoniare di fronte al giudice per dire che queste cose in realtà le ho dette io e non le ha dette lui è una roba fantascientifica non succede davvero nel diritto nella pratica del diritto non si fanno queste cose però c'è l'ipotesi di chiamare testimoni e confermare però ecco era per adesso stiamo prendendo già fin troppo tempo so che questo tema però è per farvi capire il meccanismo che questo è come si acquisisse il diritto e questo è come si dimostra questa l'abbiamo già detta velocemente quando acquisisci il diritto acquisisci tutta questa roba qua anzi in realtà ci sarebbe una gamba in più di lava l'ho tolta perché se no il diritto l'eco compenso però questo è tutto il blocco di diritti che la legge italiana riserva all'autore nel momento in cui crea l'opera che come vedete già si dividono in due macro categorie diritti tipo personale e quelli tipo patrimoniale non penso di dover spiegare il concetto cioè questi attengono alla persona la sfera reputazionale morale quelli sono invece quelli che ti permettono di remunerarti cioè di farti pagare per l'utilizzo delle opere no cioè sono quelli che permettono agli autori di pagarsi l'affitto pagare il mutuo far la spesa anche se è molto sempre più raro che succeda davvero cioè gli autori che davvero vivono di opere sono pochi poi ci sono quelli che vivono tantissimo non so che è stato che ho detto che ho letto di recente gli attori di Friends della serie tv i quattro protagonisti ricevono 20 milioni all'anno di diritti connessi 20 milioni di dollari che è stato diciamo il boom che c'è stato con le piattaforme delle serie tv avevano avuto un calo negli anni perché negli anni 90 poi la serie non l'hanno più passata in tv quando sono arrivate le piattaforme Netflix e Sochi e Prime Video la casa di produzione ha ricontrattato i diritti e loro hanno detto adesso però noi autorizziamo o non autorizziamo se volete che noi autorizziamo ci pagate e pare che siano quantificabili in 20 milioni all'anno a testa tu pensa stare a casa non fare una mazza e ricevere un assegno un bonifico di 20 milioni a dicembre solo perché la tua serie che hai girato nel 94 sta ancora girando quello è non è proprio diritto d'autore è questo qua diritto connesso perché loro non sono autori sono attori cioè sono interpreti di un'opera però c'è un altro esempio che è Sting che guadagna una cifra del genere al mese per una canzone no scusate no non milioni sono circa 30 mila 30 mila dollari al mese no scusate 30 mila dollari al giorno per every break si andate a cercare vabbè adesso non perdiamo tempo cerca tutto dovrebbe essere every break you take genera circa 30 mila dollari al mese al giorno scusate a Sting grazie alle varie cover che sono state fatte negli anni quindi non è tanto la sua versione originale quella dei police è quella che hanno fatto PD di Puff Daddy si chiamava una volta e altri e altri rapper lui con quella lì solo sembra che c'era la notizia di qualche però ecco ah no allora ho esagerato scusate duemila dollari sì allora mi ricordavo forse qualcosa tipo 30 mila duemila al giorno però cioè capisci calma duemila al giorno per una canzone per un brano musicale parliamo di un autore che ha scritto una marea di roba anche per altri quindi cioè ecco tra Sting e il professor Mangiatordi che prende in diritti d'autore ben 500 euro all'anno tipo no neanche eh sì quegli anni lì 82-83 certo no vabbè ecco in questi due estremi ci sono un sacco di poveracci in mezzo di gente che dai libri prende quattro soldi e a volte devi pagare tu per pubblicare come il primo libro ha ceduto completamente il diritto la casa editrice ebbè ma perché c'è la domanda scusa di riprodurre hai detto allora ci arriviamo quelle sono opere in pubblico dominio cioè il diritto autore non c'è più però in Italia ci siamo inventati una cosa che vincola cioè un diritto che vincola anche sì perché è un tutel se l'opera è tutelata come bene culturale hai una scocciatura che non è legata al diritto autore ma è chiedere autorizzazione al museo che ce l'ha in tutela però anche lì oggi non ce la facciamo a farlo però su quello ci sono mie lezioni intere perché è un tema che mi mi è rimasto qua david michelangelo davidi michelangelo per una pubblicità no davidi michelangelo cioè donatello è quello il bronzo piegato verso il basso il quello di michelangelo è quello il marmo che c'è alla galleria della galleria dell'accademia a firenze che viene usato da non ryanair ma da easyjet per la pubblicità che lo manda in vacanza il botticelli era stata usata allora la la venere è stata usata dal governo italiano per quella campagna la ridicola però lì era il governo italiano quindi cioè non può chiedere per verso se stesso perché è il ministero in quel caso no il problema della venere era stato che Jean Paul Gaultier l'aveva usata per una una linea di moda l'avevano stampata su delle magliette e a Jean Paul Gaultier hanno rotto le scatole però non è tema di oggi se no non ce la facciamo prego allora se acquisti la domanda è dipende cosa hai acquistato cioè da come me l'hai posta se tu hai acquistato i diritti non direi che diventi titolare assoluto dei diritti cioè se li prendi se hai acquistato tutti i diritti puoi fare quello che vuoi è l'esempio che vi ho fatto è l'esempio che vi ho fatto prima no devi stare nei limiti della licenza se no vai a finire come quello là che faceva che lavorava per la casa editrice che aveva una licenza per uso personale e per uso didattico tipo quindi lui la poteva usare per fare slider cos'è ma lui l'aveva messa su una copertina di un libro se hai acquistato i diritti sì se hai acquistato i diritti anche su flottamento commerciale non c'è distinzione hai acquistato i diritti no no è che a volte le licenze prevedono questi vincoli cioè puoi hai esatto è difficile rispondere esatto no scusate devo andare un po' veloce però saltiamo la parte sulle fotografie se no non ce la facciamo non ce la facciamo